Meno morti, mai più incidenti stradali. Polis Lombardia pubblica i dati sull'incidentalità della nostra regione, il primo dato che emerge anche se ci sono distinguo fra provincia e provincia, è appunto quello che sulle strade lombarde l'anno scorso sono diminuiti i morti anche se sono aumentati gli incidenti. Tra il 2010 e il 2019 i morti per incidenti stradali sono infatti diminuiti nella nostra regione del 22%. Il numero di incidenti conferiti avvenuti nel 2019 è invece dell'1% in più rispetto al 2010 e del 5% in più del 2018. La maggior parte degli incidenti stradali si registra nella città metropolitana di Milano dove tuttavia c'è l'indice di mortalità più basso di tutte le province lombarde, 0,8 morti ogni 100 incidenti. Seguono a distanza le province di Brescia 10,3% di incidenti, Bergamo 9%, Monza e Brianza 8,3% e Varese 8,2%. I rischi maggiori si corrono sulle strade extraurbane che registrano 3,7 vittime ogni 100 incidenti contro le 2 e 6 delle autostrade. Più sicure sono le strade urbane che contano meno di un morto ogni 100 incidenti. La situazione più grave sul fronte degli incidenti stradali riguarda quelli che coinvolgono i pedoni. Nel 2019 sono stati più di 4.000 e hanno provocato 4.205 feriti e 96 morti. Il 22% del totale dei decessi per incidenti stradali avvenuti sul territorio regionale lo scorso anno. Un altro dato importante riguarda i ciclisti. Leggendo i dati dell'azienda regionale Emergenza Urgenza, si nota che nei primi 10 mesi del 2020 sono stati 7.538 i soccorsi a ciclisti sulle strade della regione Lombardia. Per entrare nel dettaglio invece delle province a Bergamo, nel 2019 si sono verificati 2.941 incidenti, 42 in meno dell'anno precedente, mentre l'indice di mortalità provinciale segue l'andamento regionale, anche se con valori leggermente più elevati. Nel 2019 ci sono stati ben 12 morti in meno rispetto all'anno precedente sulle strade della Bergamasca. Nel 2019 sono diminuiti anche gli incidenti di morti in provincia di Brescia, meno 34 e meno 4, ma sono aumentati i feriti più 42. L'indice di mortalità della provincia di Brescia evidenzia valori quasi doppi rispetto all'andamento regionale, 2,4 morti ogni 100 incidenti nel 2019 contro il valore di 1,3 in Lombardia.